PAC, Camera di albergo, Patmos, Grecia, televisione. 5 del pomeriggio c'è un film con una specie di Mario Carotenuto del Pireo. Ora arriva Mario Carotenuto, Marios Carotenuto, non so come cazzo si chiama però, e arriva Mario Carotenuto, sarà un film del 65, 64, ecco Mario Carotenuto, questo, ecco, 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 cazzo dicono non si capisce niente, quando le smofiano, poi come muovono le braccia, guarda, guarda la camicia aperta, come muove le braccia, guarda, Mario Carotenuto, Mario Carotenuto, ma che immagine, neanche Luigi Ghirri ci ha mai restituito un'immagine così. come... l'in naveurarà,larationav... Marios Carotenuto. PAC. PAC, Patmos, Grecia. 8 agosto mi pare